In provincia di Agrigento ieri ci sono stati sette nuovi ricoveri in ospedale per covid e questo è indubbiamente il dato più preoccupante dell'ultimo bollettino dell'ASP sull'andamento epidemiologico, quello che fa riferimento alla giornata di ieri. I pazienti ricoverati in area medica al Fratelli Parlapiano di Ribera adesso sono 8, 2 in più. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 4, 1 in più e sono diventati 4 gli aggrigentini ricoverati presso ospedali fuori provincia per un totale di 16 persone ospedalizzate mentre altre 371 asintomatiche o con sintomi lievi sono in isolamento domiciliare. I nuovi contagi ieri in provincia sono stati 13 su 405 tamponi processati, 10 le persone guarite. A sciacche positivi al covid sono 23, 1 in meno, 6 a Ribera, 1 in più, 18 a Sambuca di Sicilia mentre torna covid free il comune di Santa Margherita a Belice. 8 ai casi a Real Monte, 30 ad Agrigento, 3 ad Aragona, 7 a Burgio, 52 a Canicattì, 7 a Cattolica e Raclea, 68 a Licata, 6 a Menfi, 1 caso a Montevago, 41 a Naro, 5 a Palma di Montechiaro, 16 a Portempedocle, 3 a Racalmuto, 36 a Raffadali, 2 a Ravanusa. A livello regionale continua a mantenersi alto il numero dei nuovi casi registrati in Sicilia. Sono stati 472 i nuovi contagi ieri nell'isola, 16 i decessi e 432 i guariti. Insieme ai contagi continuano a salire anche i ricoveri. L'incidenza ieri è scesa all'1,3%, il giorno prima era al 3,3%. L'isola ieri è stata la settima regione per numero di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 9.536 con un aumento di 104 casi. Sul fronte ospedaliero adesso sono 398 le persone ricoverate, 14 in più rispetto al giorno precedente in terapia intensiva. I posti letto occupati sono 47, uno in più. Contagi che crescono in tutte le regioni, tant'è vero che si profila il ritorno delle prime zone gialle. La Sicilia è al momento distante dal pericolo e resta ancora in zona bianca. Le regole però potrebbero cambiare ancora. In particolare spunta l'ipotesi che i divieti della zona gialla vengano limitati ai non vaccinati, lasciando dunque liberi da restrizioni tutti coloro che si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino. Al momento è solo una proposta che parte dal Friuli Venezia Giulia, ma che sembra destinata ad essere accolta anche da altre regioni. L'orientamento infatti sembra essere quello che, se ci saranno nuove restrizioni, queste non potranno essere pagate da coloro i quali si sono vaccinati, considerandola una grave ingiustizia. Grazie. 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 Grazie.